Ciao a tutti complottisti, come siete così diffidenti, ma oggi noi raccontiamo soltanto una favola e quindi nessuno deve sentirsi offeso e sentirsi tirato in causa. Psicologia politica e come distrarre la massa dai veri problemi. Miss Italia, alluvioni, crisi, temi importanti o abili strategie mediatiche e politiche per distrarre l'attenzione. Tecniche di manipolazione psicologica sociale hanno dei padri fondatori e una lunga storia. Molti hanno studiato scientificamente il comportamento delle folle e proponendo tecniche per adattarle e controllarle. Dicono che hanno provato a fare questo anche Stalin, Hitler e Mussolini. E quindi nasce il potere invisibile di dirigere una nazione. Noi siamo dominati, la nostra mente plasmata, i nostri gusti formati, le nostre idee suggerite da gente di cui non abbiamo mai sentito parlare. Per fare queste ci sono dieci strategie e quella più eclatante che spicca tra tutte è praticamente la strategia della distrazione che consiste nel deviare l'attenzione del pubblico attraverso inondazioni, terremoti, diluvi, insomma catastrofi naturali, talmente impegnati a pensare alla catastrofe che non possiamo e non ci possiamo permettere di pensare ad altro. Per impedire al pubblico di interessarsi ai problemi essenziali. Sicuramente sarà più interessante sapere quanti glutei avrà fatto oggi Belen Rodriguez. Un saluto a Belen Rodriguez, era solo per fare un esempio, ti vogliamo bene tutti, ma non ci domandiamo assolutamente in che situazione economica si trova il nostro paese, ad esempio. Anche il nostro cervello si è rammollito e quindi tra un po' saremo capaci di fare ministro dell'istruzione, indovinate un po' chi? Giulia De Lellis. Un saluto anche a Giulietta nostra, dolce e delicata, tanto carina, a cui mandiamo tanti bacini. Di solito per far crollare la borsa ci servono due o tre fattori, dipende. Il crollo avviene ogni 8 o 10 anni. Beh, adesso abbiamo questa pandemia che ha bloccato, pensate un po', il mondo intero e quindi tutta la sua economia. E quindi la borsa è andata a picco, forse per riacquistare i titoli a prezzi vantaggiosi, a prezzi stracciati. Un altro evento potrebbe essere la morte del leader nordcoreano, ma ancora non è stata accertata. E che ne dite se tra un po' ci sarà un blackout di internet?